Un soggetto Fontana 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 Oh, abbassa quel cazzo di pedaglia Pedaglia che picchia Sono meno certo Fermo un po' Fermo un po' Ma io sono Spendi sto cazzo di pedaglia Fai le mani casinare Vai Tutti i prosi e gli avvi riprende le scarpe Quali? Salute Pugnare lì 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 no 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 che fai il video per far il video Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una piccola lezione sulle petatoniche. Sulle che? Petatoniche. Petatoniche. No, 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 no. 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 Grazie a tutti.